benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui su atlanti con la preview della nave da battaglia panasiatica su niatzen signori nuovo arrivato dell'armeria la nave sarà ufficialmente a disposizione solo dal 26 di gennaio per una cifra in dobloni di 19.400 però comandanti come sapete la si può avere in realtà anche attraverso i famosi pacchi ricompensa di amazon prime prime gaming però ci vuole una gran fortuna e soprattutto dovete collegare amazon a twitch altrimenti non avrete a disposizione il drop che comunque è veramente una botta di fortuna pazzesca siamo qui su punto e atlanti con lexington contro lexington sommergibile tier 10 per lato il loro giocatore di sommergibile è veramente un mostro e poi nel corso del match lo vedrete compartimento cruiser super limitato salutiamo gratto dei spect che se non sbaglio è un team italiano è una corazzetta che basta anche solo vederla sicuramente vi ricorderà qualcuno perché il suo scafo la dimensione le sovrastrutture anche la disposizione dei cannoni ovviamente ogni riferimento va verso la sovrastrisc soyuz che è a tutti gli effetti la sua nave gemella ma del compartimento sovietico questa nave infatti è panasiatica è a tutti gli effetti una nave cinese tecnicamente tra l'altro uscita in circostanze abbastanza misteriose perché io non capisco veramente non è mai stata costruita i cinesi tecnicamente l'avrebbero comprata ma non l'hanno mai costruita quindi insomma siamo proprio nella della mesosfera astrale super fantascientifica della wargaming che guarda voglio evitare di sottolineare perché non so nemmeno cosa dire al riguardo è un progetto fantascientifico di una vendita fantascientifica comunque è a tutti gli effetti una soyuz con delle modifiche piuttosto importanti una tra tutte esempio nei costruzzabili con il defense fire il fuoco di sbarramento ma in realtà quella è la sua modifica meno importante ma soprattutto è una nave che dal punto di vista difensivo è ritirata da quelle che sono le grandissime capacità difensive della grande nave da battaglia sovietica perché la soyuz è da sempre una nave è estremamente resistente con un ponte centrale super corazzato da 60 mm e anche lei non è da meno in questa caratteristica anche se poi analizzeremo un dettaglio alla sua cittadella lo vedrete nel corso della partita la cittadella è sì molto corazzata ma è molto 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 alta comandanti e di conseguenza quando trovate una nave con il calibro giusto soprattutto con i proiettili altamente penetranti può farvi veramente molto molto male per quanto riguarda il compartimento hp arriva a 80.900 con un 35% di danno e riduzione sui torpe e un'armatura che ha un fasciame laterale corazzato principale da 375 ma che poi diventa da 406 e 420 in alcune zone piastrate della fiancata che poi vedrete comunque nella scheda armatura tra l'altro la signorina shikishima sicuramente a comet e alla banda pervertiti piacerà quel nomignolo lì non so se sia un giocatore italiano oppure no dei throw per quanto riguarda poi il discorso legato alle sue capacità di manovra abbiamo un 29.4 notti di velocità massima con la bandierina a bordo e un raggio virata di 950 metri con dei tempi di risposta di massima efficienza di 14 secondi punto 9 vuol dire che da questo punto di vista il timone non è neanche così male anzi è discreto possiamo definirlo discreto considerando che come sapete il timone sovietico da sempre è uno schifo sopra spesso i mille metri in questo caso è sotto quindi addirittura timoneria cinese inventata assolutamente migliorata rispetto alla russa la sua capacità sta alta 13 chilometri e mezzo di spottabilità via acqua e 10 chilometri e mezzo via aria diciamo bene ma non benissimo nello standard nulla da segnalare simile anche qua simile alla Soyuz è il compartimento offensivo che veramente cambia completamente perché guardate questa nave ha delle torri completamente diverse rispetto a quella della Soyuz che sono da 406 è infatti armata con bene 6 cannoni disposti su tre torri quindi torri binate da 457 mm sono tutti gli effetti i giganteschi cannoni della cremelino il sigma è di 1.9 diciamo non proprio precisa ma neanche così in precisa la ricarica è straordinaria perché con i moduli setup che poi vi farò vedere nella scheda dedicata potrete arrivare a 23 secondi netti di ricarica una cifra notevole considerando che questi cannoni sono appunto molto molto grossi ogni tanto però la wargaming partorisce queste navi premium barra premium completamente inventate con dei calibri giganti ma anche degli interessanti compartimenti di ricarica come ad esempio questa come ad esempio la thunderer che affronteremo tra poco che anch'essa godia nonostante i canoni giganti di una ricarica piuttosto agevole la dispersione di 194 metri a una distanza massima che solamente 19 chilometri e 2 è uno dei suoi grossi problemi il fatto che abbia questa pessima gittata perché è piuttosto corta e considerando che giocate contro i 9 e i 10 e spesso anche le supernavi che sarebbero tecnicamente i tier 11 questi 19 chilometri a volte non bastano va detto però che appunto è talmente imprecisa che sparare oltre una certa soglia non ha poi tanto senso quindi tutti gli effetti comandati vi posso assicurare che 19 chilometri si gestiscono bene perché poi oltre oltre quella distanza è sempre difficile colpire efficacemente qualcosa intanto arriva una tramvata del del sommergibile u25 01 tedesco che tra l'altro è giocato da un super player poi vedrete il risultato post partita vi farà abbastanza paura farà letteralmente il culo a tutte quelle navi che sono nel cap e per quanto riguarda i nostri liati anche se tecnicamente sono dei destroyer che dovrebbero essere in vantaggio contro i sommergibili ma vai te a capire le random battle di world of warship per quanto riguarda la e fire chance del 45 per cento e per quanto riguarda la ballistica 800 metri al secondo quindi ballistica piuttosto veloce infine il colpo 13 mila di danno massimo con i proiettili ap e ben 4 6500 scusate di proiettili in danno massimo in h e ovviamente da autorizzare fu la fu la fu la fu la picco mandanti io la che le uso veramente molto molto rarmente con i 457 puoi penetrare efficacemente quasi tutto la stessa se guardate è un po questo momento pari sembra che tutto stia andando abbastanza bene per noi ma poi vedrete un completo collassamento specie nella zona nord quel mio che scenderà in maniera brutale noi qua notiamo effettivamente un push al centro di due incrociatori ovvero il drake e la zuma che farà una più che buona partita e decidiamo di colpirli broadside perché effettivamente sono per noi di burro a questa distanza e soprattutto dobbiamo cercare di aiutare la colombo che enorme difficoltà in isolamento contro due cruiser probabilmente verrà fondata a breve avete visto come quando colpisce lateralmente il colpo arriva a pisante arriva sempre la ballistica facilita anche il proiettile in avvicinamento quindi effettivamente il colpo abbastanza efficace su qualsiasi cosa possa colpire sulla fiancata qua se non sbaglio entrerà un'altra cittadella e il drake ormai è in fin di vita ma la colombo appunto non sembra riuscire ad annientarlo per adesso mentre i nostri nemici i nostri lati cominciano a essere massacrati uno dopo l'altro un'ultima cosa riguardante questi canoni fenomenali comandanti è il brandeggio pensate che ha un brandeggio torri che ricorda un po un incrociatore pesante perché gira a 180 gradi le torri in soli 28 secondi e 7 veramente impressionante per quanto riguarda le secondarie 6 torri bianchi da 152 con 5 secondi e mezzo di ricarica 7.3 chilometri di città massima 12 per cento di fire chance un danno da 2200 completano poi l'air strike antisommergibile con due attacchi singoli fino a 10 chilometri 30 secondi classici di ricarica e un danno massimo con due bombe in pelo da 4200 guardate un po e viriamo completamente a destra per cercare di andare oltre la fiancata della della thunder che pensiamo stia passando dei colpi incendiari ai colpi api e poi per questo che non riesce a sparare effettivamente subito riusciamo ad aggiustarci con la prua in modo piuttosto rapido lei spara nuovamente con i colpi incendiari qua ci ha sorpreso completamente e decidiamo di tirar un'altra linea in cittadella così gratis è il classico giocatore che spamma comandanti incendi dalla mattina alla sera con la thunderer ignorando completamente il fatto che quei canoni sono potentissimi anche e soprattutto con i proiettili api per quanto riguarda il secondario a suonazione adesso stiamo ripiegando perché mai siamo stati quasi mezzi collassati dagli avversari mentre cerchiamo di colpire nuovamente la zuma che si sta ripiegando al centro con la colombo che ancora viva e non è riuscita assolutamente ad aneggiare l'incrociatore da battaglia giapponese ma comunque ci pensiamo noi per quanto riguarda il compartimento anti aero della della sunyat se è appunto una batteria da 50 50 702 mm con un danno continuativo di 286 un danno radiante di 1764 fino a 5,8 chilometri potenziabile con il modulo anzi il consumabile defense fire come sapete il fuoco di sbarramento che in questo caso aumenta del 300 per cento il danno radiante flak nei cieli e del 50 per cento il danno continuativo che fate ogni secondo sugli aeroplani che entrano nella vostra diciamo autonomia antiaerea il repair party c'è poco da dire è un classico repair party con una ricarica di 76 secondi recupera fino a 485 hp al secondo per 31 secondi però appunto nulla di speciale da segnalare guarda adesso il nemico controlla sia il cab di a sia il cab di b siamo in full ripiegamento è appena arrivata la medaglia high caliber arriverà anche se non sbaglio la medaglia confederate tra poco riusciamo a evitare facilmente questi soliti mentre troviamo nuovamente sulla fiancata la thunder e continua a volerci impegnare prendendo delle sonore batoste qui l'rng la salva perché effettivamente sembrava quasi un corpo cittadella che l'avrebbe destinata all'affondamento ma è solo una questione di secondi prima che lei vada giù altra trambata ancora con gli incendi non sembra più capire qual tizio che con le ap potrebbe farci molto più male quindi decidiamo di portare fino alla sua partita con un rapido affondamento e il corpo cittadella è arrivato siamo inseguiti dalla signorina shikishima che sarà sicuramente il miglior amico di comet lorenzo e carlo il perverso perché grazie col titolo la signorina shikishima veramente gli ho dato anche il più una fine partita e quindi nessuno può dirmi niente occhio adesso guardate la trambata della vittoria vento guardate un po questo perché sapete benissimo comandanti che quando siete full broadside contro i cannoni italiani e avete una cittadella particolarmente alta anche corrazzata come la nostra e quei cannoni penetrano a far da far paura e infatti il colpo è stato assolutamente mostruoso con oltre 20.000 di danno stiamo cercando di compensare con quello che possiamo ma ormai la partita per noi è quasi in chiusura ora cerchiamo un po di angolarci guardate un po la signorina shikishima non sembra riuscire a trovarci con i 410 mm delle uami e quindi ci continuiamo a tirare sulla sulla vittoria vento perché non possiamo virare completamente sulla batteship giapponese alta rambata e stavolta la nostra partita è ufficialmente terminata qua che tristezza comandanti che tristezza possiamo quindi andare tranquillamente sui risultati post partita perché non c'è più nulla da dire tanto ci sarebbe da piangere più che altro allora quasi 238 mila di danno comandanti è un danno diciamo tutto sommato buono sì considerando che comunque è una cazzata tier 8 di anti tier 9 scusate due riabbattuti poca roba e la portiere non ci ha mai veramente impegnato una sola kill tanto danno farmato 70 colpi 8 cittadelle grazie alla thunder simpaticona che dava sempre la fiancata per quanto riguarda il punteggio partita è piuttosto eloquente neanche male la partita della nostra portierei complimenti al takashi che è arrivato primo grande partita quasi 1550 perdendo è un grandissimo risultato guardate dall'altra parte il sommergibile dei taken ha fatto praticamente man basso sul fianco sinistro quasi da solo ha iniziato qualsiasi cosa ha fatto addirittura quasi mille punti in più rispetto al secondo e al terzo in classifica per dire la partita che ha fatto quel tizio con il sommergibile complimenti quindi a lui per quanto riguarda i modi le skill consigliate sulla sun yatze sono le seguenti abbiamo un setup full tank con un rafforzamento generale dei moduli andiamo poi un miglioramento sulla durata degli incendi dei flooding la nave giocando a una media distanza non potendo andare oltre la distanza perché massimo spara 19 ha bisogno di respirare di avere maggiori capacità difensive anche perché comunque non ha un mimetismo la cortina famogena che le permette di scappare quindi a tutti gli effetti viene spesso martellata in tal senso deve difendersi in qualche modo andiamo poi per quanto riguarda i modi la ricarica migliorata il mimetismo abbiamo poi il miglioramento tentativo miglioramento dei canoni dei canoni primari a livello di precisione poi e i classici le classiche skill che avete visto anche in passato su altre navi da battaglia l'adrenaline rush il miglioramento del countdown difensivo brandeggiatore rimigliorato e tutto il resto insomma il classico compartimento fu compartimento full tank da nave da battaglia da ridosso della prima linea per quanto riguarda l'armatura generale della sun yatzen è la seguente pru e pop a rompi ghiaccio da 32 abbiamo poi questo ponte centrale da 60 fantastico contro il focus degli dei destroyer perché vi impedisce di essere martellati come altre navi le torri sono molto difficili da incapacitare perché hanno questo fasciame che di base molto alto arriva fino addirittura a 550 c'è poi la città dell'alterale che ha una doppia spazzatura da 375 con un compartimento separato che poi diventa da 406 420 nella zona delle torri anteriori per poi diventare da 220 ma quella non è più la cittadella con extra fasciame a metà nave a metà prua nella zona sopra la linea di galleggiamento è un fasciame molto laterale molto interessante la collo laterale ma lo vedrete poi nella cittadella come diventa in maniera piuttosto complessa in questo caso vedete comandanti la cittadella è molto molto al di sopra della linea di galleggiamento e se notate c'è sì un compartimento antitorpe ma effettivamente la cittadella è talmente alta che anche un colpo da 380 laterale può farvi veramente molto molto male va inclinata in modo che non sia completamente broadside formando un angolo di 90 gradi con il proiettile in arrivo della nave da battaglia avversaria che magari vi ha sparato contro però effettivamente quando si angola riesce a tancare molto di più dovete stare sempre molto attenti ai colpi da lontano che non potreste aspettarvi o qualche nave che potrebbe spuntare dal nulla perché in quel caso la cittadella verrà completamente smantellata dai colpi degli avversari quindi sì è un fasciame laterale molto spesso interessante ma il fatto che la cittadella sia così alta e viene controbilanciato questo aspetto difensivo e diventa quasi un handicap da sopportare durante la vostra partita per quanto riguarda i pro e i contro della nave da battaglia panasiatica sono i seguenti punti di forza punti di vita numerosi sfonda agli 80.000 potenti batteri da 457 ottima ricarica dei cannoni perché comunque 457 che ricarica nei 23 secondi i comandanti è tanta roba ballistica facile da gestire 800 metri al secondo è un colpo che ricorda quasi l'incrociatore henry francese che lo è 830 quindi per dirvi quanto è facile comunque colpire i target con questa nave da battaglia ottimo prendeggio torri ponte centrale da 60 l'avete visto consumabile per il potenziamento antiaereo il fuoco di sbarramento ovvero il defense fire vi dà un bonus a livello antiaereo contro reti rotto e portieri tirotto gestirete la cosa alla grande contro reti 10 vi assicuro che questa cosa potrebbe anche non bastare specie se il giocatore avversario è bravo nel drop e sa usare bene la porta aerei infine la timoneria è accettabile a differenza di altre navi sovietiche che hanno dei raggio di virata superiore ai 1000 metri a volte anche ai 1050 1090 metri nel suo caso è solamente 950 metri di questo miglioramento andava per forza sottolineato per quanto riguarda invece i punti deboli la cittadella è molto alta l'avete vista solo 6 cannoni principali fanno male sparano velocemente ma sono comunque 6 cannoni comandanti quindi è un qualcosa che bisogna per forza analizzare specie quando magari potete giocare solo di prua e non potete sparare con la torre indietro in questo caso sono solo 4 cannoni e la cosa può essere abbastanza un handicap non particolarmente precisa sigma di 1.9 è per questo che spara corto oltre 18 è difficile colpire efficacemente qualcosa gittata limitata da 19.2 è un problema quando giocate contro le supernavi o contro navi che giocano da molto lontano non potete rispondere al loro focus e infine solo pagamento questo è infatti 19.300 gold e si potrà avere solo nell'armeria almeno per adesso e questo per quanto riguarda il suo sistema di sviluppo che la wargaming ha previsto poi in futuro non so bene se la wargaming deciderà di metterla a risorse ma per adesso è solo esclusivamente a gold un'ultima cosa comandanti questa nave quasi sicuramente finirà nel giveaway del mese prossimo della nostra lotteria quindi se volete partecipare giù nell'info box c'è il link al discord e più o meno tra una settimana apriremo le iscrizioni e poi a inizio febbraio avremo la lotteria di febbraio con questa nave in regalo che comincerà appunto a essere il principale primo giveaway della nostra annata 2023 all'interno dei mari di world of warships comandanti per quanto riguarda la sua niatzen nave secondo me piuttosto buona è tutto spero che il video vi sia piaciuto se avete delle domande fatele pure giù nei commenti per quanto riguarda il resto ringrazio come sempre tutte le persone che si abbonano al nostro canale su twitch giù nel flow box c'è il link anche al nostro canale di twitch e soprattutto vi ricordo che con amazon prime collegandolo a twitch ottenete prime gaming oltre ad avere le ricompense della wargaming tutti i mesi come ad esempio il container che permette anche di vincere la sun yatzen oltre che il weimar e la ki avete la possibilità appunto di abbonarvi e dare un concreto aiuto al nostro canale e quindi permetterci di migliorare la postazione tutti per quanto riguarda il compartimento tecnico che è centro della creazione di video e live qui su world of warships comandanti come sempre io vi saluto ci sentiamo prossimamente probabilmente a martedì con la patacca delaware ovvero la nave delaware tier 9 del compartimento hybrid battleship della marina statunitense come sempre buona caccia